I dati a fine 2023 del punto nascita di Termoli sono tutt'altro che positivi, 159 parti mentre nella vicina Vasto con un reparto tutto sommato organizzato alla stessa maniera senza terapia intensiva neonatale ne sono stati 700 con un primario peraltro termolese come Vincenzo Biondelli e un'utenza che proviene in larga parte anche dal basso Molise. Come Comitato Moli Sanità L113 c'è ancora senso nel dare battaglia affinché venga restituita fiducia e speranza al punto nascita di Termoli? La battaglia prosegue ma perché prosegue per la salvaguardia di un diritto, noi non stiamo battagliando per un campanilismo, stiamo battagliando appunto perché siamo cittadini di serie A come tutti gli altri e di conseguenza abbiamo gli stessi identici diritti di tutti gli altri, quindi la battaglia prosegue. Certo nell'attesa che nel riassetto della sanità molisana io penso che bisognerebbe cominciare a salvare perlomeno il salvabile. Io posso dare esempio come nella vicina San Severo è bastato l'arrivo di un direttore nell'unità operativa di ginecologia ostetricia per ribaltare la situazione. Anch'esso era un reparto in via di chiusura come il nostro, però è bastato mettere a capo una figura autorevole per riassettare tutta l'equip dell'unità operativa e comunque rilanciare un reparto che era quasi moribondo. Io non capisco come non si possa fare anche da noi un lavoro simile. Ripeto, abbiamo bisogno di una guida autorevole che vada a spronare anche quello che è il lavoro di tutta un'equip.